ciao sono caterina su bidon mi trovate come caterina 11 niente oggi mi volevo il certificata della mia prima vincita su sito bidon ipod chaff 5g me la sono aggiudicata a 43 centesimi con solo sei puntate gratuite quindi sono stata fortunatissima niente nella confezione come vedete piccolina sta mio apple chaffer come ho prenotato un colore azzurro turchese molto piccolo dentro confezione poi sta le istruzioni auricolari che sono ovviamente originali e anche cavetto usb per caricare e passare le canzoni niente che dire la strategia utilizzato che ho controllato prima le aste di questo prodotto per vedere chi era interessato al prodotto e sperando ovviamente che quando puntavo io stavano meno utenti presenti e meno utenti interessati niente volevi dire che il sito bidon è vero non ci credevo ma è così è un sito vero sicuro niente io spero nella prossima vincita quindi ci vediamo presto ciao